La freccia azzurra è un vero e proprio romanzo, non è un racconto per bambini, è un racconto anche per ragazzi, per bambini, ed è un esempio straordinario di quello che Rodari diceva in maniera molto semplice, però molto efficace, quando ricordava ai genitori di giocare con i propri bambini, non per loro, perché loro in qualche maniera si arrangiano, ma per voi proprio, perché se no qualcosa la perdete voi. Leggere questo libro da soli non è abbastanza per il lavoro che ha fatto Gianni Rodari, questo è un libro che è molto bello, che sia diventato anche un audiolibro, quelli della Emmons che mi hanno incastrato proprio perché è Gianni Rodari, un'altra cosa non l'avrei letta perché non sono un lettore, però questo è un libro da leggere ad alta voce, quindi anche da ascoltare da una voce che lo legge e la cosa migliore è farlo insieme ai propri bambini, perché ci accorgiamo quanto questa storia sia stata scritta da uno scrittore che non pensava soltanto alla storia, ma pensava proprio alla relazione che la storia produce tra chi lo legge e chi lo ascolta e soprattutto chi lo legge e rilegge e chi lo ascolta e riascolta, come spesso accade insomma quando raccontiamo le storie ai bambini. La particolarità dei personaggi di questa storia sta nel fatto che effettivamente nonostante non sia una storia come si direbbe oggi buonista insomma, o comunque zuccherosa come tanti racconti per bambini, come tanti film purtroppo per bambini, nonostante appunto non sia una storiella smielata, ma una storia dove ci sono tanti conflitti tra i personaggi, però poi alla fine nessuno di questi personaggi diventa realmente un personaggio negativo ed è curioso come Gianni Cotelli sia riuscito a scrivere un racconto con tanti conflitti dentro dove poi alla fine nessuno è davvero profondamente cattivo e anche questa Befana che più che cattiva è acida, è proprio come la vecchia nel cortile che si arrabbia quando i bambini giocano a pallone e tutti i giorni gli ripete ragazzini vero buco, sto pallone insomma e poi alla fine non glielo buca mai, questa è la cosa anche divertente di questa storia ed è una storia per ragazzi anche per questo motivo, cioè che comunque mostra un mondo dove i conflitti ci stanno tutti, c'è la povertà che non ci fa che vedere la ricchezza come qualcosa che è molto lontano, i conflitti tra uomini per le donne anche, per le bamboline, c'è l'amore, c'è tante cose dentro, però poi alla fine l'essere umano è comunque fondamentalmente umano e questa è la sua forza, non sempre è così nella storia dei Rotari, però in particolare lui riesce a mettere insieme tutti questi pezzi, tutti questi conflitti, tutti questi chiaroscuri, portandoli poi tutti quanti verso una vicina positiva della società. I libri di Rotari sono stati tra i primi libri che ho letto e mi colpivano perché non sembravano storie per ragazzi, sinceramente mi commuovo quando leggo certe storie sue, anche le prime proletto erano le favole al telefono e alcune di quelle storie avevano commoventi, insomma il muratore della Valtellina che costruisce questa casa, poi finisce nella muratura tra i muri della casa ma vive ancora perché vive insieme alla casa, poi c'è una guerra che distrugge quella casa e lui muore, muore davvero perché muore il frutto della sua fatica e la cosa a me fa, io mi commuovo anche adesso a pensarci, ho Giacomo di Cristallo che è trasparente quindi un po' a nascondere nulla, il dittatore lo mette in una prigione e anche la prigione diventa trasparente e lui riluce una luce potentissima che caccia via il dittatore, da questo punto di vista lui è stato non soltanto un grande narratore per ragazzi ma un grande narratore di sinistra, nel senso che ha saputo interpretare quello che è lo spirito dell'idea, dell'essere di sinistra, di pensare ad un socialismo che coinvolge l'intellettuale e che lo fa scrivere in un certo modo e non in un altro.